Amici di Lignano Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Batili, parleremo di calcio camminato o walking football per meglio dire, con Aldo Dondi, ciao Aldo, uno dei responsabili del direttivo, insomma chi siete questo calcio camminato e quando siete nati? Diciamo che il calcio camminato è nato nell'ambito dei veterani dello sport, noi facciamo parte di questa associazione nazionale che è l'Unione Veteranali dello Sport, un'associazione che ha circa 9.000 soci in Italia, è riconosciuta dal CONI come anche promotori e accreditati come ludico sportivi e dallo Stato come APS, perciò come una società di promozione sociale. A questo punto nel 2016 a Novara il nostro Presidente Tito De Rosa, guardando qualche filmato, qualche articolo di giornale che le abbiamo portato, abbiamo visto che in Inghilterra delle persone di una certa età, cioè over 60, over 50, over 60, giocavano un qualcosa che assomigliava al calcio e allora ci siamo un po' appassionati e appunto il nostro Presidente ci ha dato la spinta, ha detto beh, cerchiamo, vediamo di svilupparlo nella nostra sezione di Novara, in primis e poi così. A febbraio del 2016 abbiamo riunito le prime 12-15 persone in un palazzetto di Novara e abbiamo cominciato a giocare, abbiamo preso delle regole esistenti di questa federazione inglese che erano già parecchi anni, almeno 5-6 anni già avanti su questa disciplina, molto più organizzati, abbiamo cominciato a giocare con cadenza anche poi mettendo così, organizzando queste persone con cadenza settimanale ci si trova e si gioca. Questo è un primo inquadramento di come è nato questo gioco. Come regole? Si assimilare il calcio o c'è qualche particolarità? Allora, lo si può assimilare al calcetto, il calcio 5, però con tre regole fondamentali. La prima regola fondamentale è che non si può correre, ovviamente, perciò l'arbitro interviene e fischia se il giocatore corre. Si può assimilare alla marcia, quando si supera i due piedi sono staccati da terra, vuol dire che si sta correndo. Altra fondamentale, che forse più della prima vale, non c'è contatto, cioè non esiste il contatto tra i giocatori, perciò l'attaccante non si può appoggiare al difensore per prendersi lo spazio. Deve essere tutto senza contatti, perciò molto tecnico. È un gioco che non è semplice perché uno diceva bene, non ho mai giocato al calcio, non si corre, si può giocare. No, perché è molto tecnico, perché il passaggio deve essere molto preciso, perché lo smarcamento è più lento, però continuo. L'attaccante che riceve la palla non può andare sulla corsa e quindi oggi si dà la palla precisa. Tutte triangolazioni, sono triangolazioni precise e non si può avere il vantaggio di lanciare qualcuno, che perciò guadagnare, no, i tempi sono, e perciò è molto tecnico. Perciò noi abbiamo sviluppato altra, poi ci sono altre piccole regole, ma i campi dove per esempio noi si gioca, utilizziamo le palestre, oppure... Quindi scusi, si gioca 5,5? 5, l'ideale per noi è avere 6 giocatori, il portiere più 5, questo sarebbe l'ideale. Poi ci si adatta alle palestre, ma quando organizziamo dei tornei o delle manifestazioni, promozionali anche, e segniamo il campo, lo prepariamo noi scegliendo le misure, l'ideale è di avere un 40 metri di lunghezza e un dai 25, 24, 26 metri di larghezza, con porte di 2 metri di altezza e 4 di larghezza. Questo sarebbe l'ideale per avere questi 6 giocatori in campo e svilupparlo. Poi chiaramente ci si adatta a quello che troviamo nei vari palazzetti dello sport. E poi, diciamo che per noi è stata una grossa spinta anche a livello sezionale per l'UNVS, per trovare soci, perché molte persone non praticavano più il calcio, pur amandolo, pur averlo praticato da ragazzi. Perché perché avevano ovviamente raggiunto una certa età. In realtà ci sono vari problemi, problemi fisici, tutti hanno le ginocchia, anche la cartellina non c'è, mal di schiena, tante cose, e hanno abbandonato. E con questa nuova disciplina abbiamo avvicinato tante persone. Non trascuriamo l'aspetto anche medico della cosa. Noi abbiamo anche dei medici che giocano anche con noi, però si sono presi, specialmente un paio di cardiologi, si sono presi anche l'impegno di analizzare lo stress fisico che c'è durante la partita. Perché potrebbe essere utilizzato anche a livello riabilitativo. Cioè ci sono delle persone che hanno avuto dei problemi che a calcio tra la possibilità del contatto, che è un problema a volte, o lo stress troppo della velocità, dell'affanno, in questo caso non ce n'è. È molto ridotto nel calcio camminato. Perciò potrebbe essere anche un fatto. E poi anche quel fatto sociale che ha portato tante persone che prima si trovavano a uscire di più per giocare in gruppo, in squadra, un po' di socialità al di fuori del tram tram normale, con questa nuova disciplina sono ritornati a farlo. Perciò questo ci dà un po' fiducia nel trovare. Perché quando riusciamo a portare delle persone a fare una prova, a venire a giocare, tutti sono abbastanza… Beh, la potrebbe provare anche io. Mi sa che io per i problemi alla schiena ho dovuto a me a 50 anni già smettere di giocare. Perché la potrebbe essere una bella idea. Senz'altro. Non c'è un'alternativa. Senz'altro. Ecco, questo si gioca su questi campi. Diciamo che noi abbiamo istituito, su anche guardando un po' quello che succede negli altri stati che poi si potrà affrontare anche questo discorso. Per oggi due categorie, over 50 e over 60. Ma abbiamo già le possibilità per tentare un over 70. Perché abbiamo dei giocatori, e tutti stiamo arrivando anche, che si può fare. Perciò è fondamentale dividere per età. Perché oggi quando si vedono giocatori over 50 giocare, hanno una buona intensità. Anche pur non correndo, è uno sport che appaga. perché la palla gira veloce. Gira veloce, la camminata è veloce, continua. Cioè, a quel punto il giocatore è appagato, non è più così. No, si può dare da fare e, diciamo come diciamo noi, ti puoi divertire. Ecco, questo è un po'... Grazie Aldo Dondi, continueremo a parlare di Walking Football, adesso con un altro ospite. Benissimo, grazie e arrivederci. Continuiamo a parlare di Walking Football con Vito Gibin. Ciao Vito. Ciao. Benvenuto anche a te. Grazie dell'invito. Allora, abbiamo già fatto la lunga chiacchierata con Aldo Dondi, che ci ha spiegato un po' le regole, un po' come funziona questo Walking Football. Con te invece parleremo un po' di più dell'aspetto organizzativo e di quali sono poi i vostri obiettivi e anche, diciamo, quali sono i vostri recapiti. Se qualcuno, penso tanti, magari over 50, ha la voglia di intraprendere questa disciplina, come deve fare? Sì, naturalmente il nostro obiettivo è che ci siamo posti dopo poco tempo dalla nostra nascita. Aldo diceva giustamente che siamo nati nel febbraio 2016, poi diciamo che dopo un annetto abbiamo cominciato a domandarci, ma continuiamo a giocare tra di noi oppure vogliamo in qualche modo far crescere questo gioco? E allora a questo punto abbiamo deciso di organizzare una conferenza stampa al centro sportivo di Novarello per cercare di diffondere questa pratica sportiva. Quindi il nostro obiettivo è stato fin dall'inizio, va bene, proviamo a farlo diventare uno sport in Italia, proviamo ad ottenere se possibile il riconoscimento del CONI, lo so che è ambizioso, però siamo partiti in 12, nel finale del campionato nazionale 2019 eravamo 174 in campo, quindi con un giro di circa 26-27 squadre sul territorio nazionale con circa 350 persone coinvolte nel gioco. Dal nulla, quindi partendo da 2016 in così breve tempo abbiamo allargato il nostro target, il nostro obiettivo, i nostri praticanti. Perché vediamo un buonissimo futuro per questo sport? L'esempio ci arriva dall'Inghilterra, faccio un breve riassunto di come è nato, un dirigente del Chesterfield, una squadra semiprofessionistica nel 2011, tornando a casa dall'allenamento, fermo al semaforo rosso, ha avuto questo lampo di genio di studiare questo sport. Chiaramente è stato un lampo per studiare due o tre regole, poi quando è diventato verde il semaforo probabilmente ha pensato anche a come svilupparlo in modo diverso con le regole molto precise, per cui stiamo seguendo quei dettami. Ma da questo in Gran Bretagna è nato veramente un movimento importante. Loro partiti molto prima di noi nel 2011 hanno un bacino di utenza di 40.000 persone, quindi qual è il concetto? In Italia noi abbiamo le due categorie, over 50 e over 60, e come diceva Aldo, probabilmente punteremo a fare l'over 70 e forse anche il femminile, non forse, se fosse possibile sì. quindi parliamo ad un target di persone avanti con l'età. Questo significa che ex calciatori in Italia che hanno giocato anche a livello direttantistico sono un numero impressionante. Io non abbiamo ancora i dati precisi, ma mi viene da dire che over 50 in Italia che hanno giocato a calcio, posso pensare che parliamo di almeno 2-3 milioni di persone che sono una possibile praticante per questo sport e non sanno che esiste. Sono seduti sul divano a guardare la partita con la birra, mentre se sapessero che c'è uno sport dove non c'è contatto e non si corre, quindi chi ha problemi fisici non deve temere nessun infortunio, si alzerebbero dal divano e verrebbero a praticare lo sport con noi. Quindi il potenziale di questo sport è enorme perché abbiamo l'esempio dell'Inghilterra. Quindi a seguito di questa conferenza stampa organizzata nel 2017 abbiamo invitato l'inventore del gioco, il signor John Croth e il presidente della federazione inglese, il signor Paul Carr, i quali ci hanno detto ma sentite siete stati così gentili, ci avete invitato, ci fa piacere, abbiamo raccontato la nostra storia, perché non facciamo la prima partita internazionale? Noi ovviamente gli abbiamo detto con entusiasmo sì, in quel momento non eravamo tantissimi, c'erano solo la sezione di Novara e la sezione di Vercelli che erano attive, gli abbiamo detto di sì e però questi signori ci hanno proiettato a giocare la prima partita internazionale di questo sport allo stadio di Brighton. Una cosa veramente per noi impressionante, uno stadio di Premier League, ci siamo trovati in uno spogliatoio dove la settimana prima c'è stato il Manchester United che è passato di lì, quindi esperienza incredibile ma molto utile perché loro l'hanno utilizzata molto in termini di comunicazione, c'è stato veramente un bel ritorno in Gran Bretagna e noi dobbiamo cercare di farlo in Italia evidentemente, come ci sono riusciti loro in Gran Bretagna avendo la cultura del calcio, avendolo inventato loro e del walking football avendolo inventato loro, i numeri di possibili praticanti in Italia sono simili alla Gran Bretagna, quindi ci terremo che tutto fosse sviluppato. Poi da lì è cominciata un'attività abbastanza regolare in altre sezioni, quindi abbiamo contattato altre sezioni in Piemonte, poi dal Piemonte siamo passati in Veneto, in Puglia, in Campania, in Toscana, quindi il tutto si è allargato decisamente e in brevissimo tempo. Abbiamo organizzato due campionati nazionali, abbiamo necessariamente invitato per la partita di ritorno gli inglesi e quindi abbiamo organizzato a Novara il 7 di aprile del 2019 un'Italia-Inghilterra allo Stadio Piola di Novara, a questo punto la federazione ci ha invitato ai campionati europei che sono stati organizzati a Chesterfield a giugno 2019. Quando ahimè ancora si poteva fare tutto questo? Quando ahimè si poteva fare ancora tutto questo. Noi abbiamo invitato il Galles a fare un amichevole qui in Italia e abbiamo ottenuto lo stadio Arena Garibaldi di Pisa e abbiamo organizzato con il Galles un amichevole il 16 febbraio del 2020, ahimè una settimana prima che cominciasse tutto il problema, l'emergenza Covid. Quindi eravamo lanciatissimi, abbiamo organizzato due tornei nazionali, oltre a quelli regionali, tre partite, quattro tornei internazionali e così via, quindi eravamo lanciati e a questo punto si è interrotto tutto quanto, evidentemente anche per noi è arrivato il divieto di giocare, per cui abbiamo sfruttato questo momento per pensare al futuro. Cosa vogliamo fare da grandi? Vogliamo diventare associati al CONI, quindi in qualche modo dobbiamo sviluppare sempre di più questo gioco in Italia, farlo conoscere, far sapere alla gente che esiste per poter avere il maggior numero di praticanti per poter essere riconosciuti come un vero sport. Come diceva Aldo, è molto tecnico questo gioco, quindi il primo impatto quando uno sente la parola calcio camminato, io stesso la prima volta ho fatto un sorrisino ironico da vecchio calciatore dicendo vabbè dai sì insomma camminare. La realtà è che quando si prova poi la prima volta si capisce che se si è un pochino bravini coi piedi invece è molto divertente e soprattutto di nuovo tendendo a coinvolgere persone di un'età per la quale non c'è più la volontà di andare a prendere botte per scontri o dover metterci due giorni a recuperare da una partita perché questo sport non lo prevede, c'è una fatica adeguata all'età delle persone, di conseguenza tutto questo fa sì che c'è un proprio e vero divertimento non secondario è anche il fatto che lo sport è aggragante. Allora riconsideriamo i 2-3 milioni di persone di cui ho parlato che hanno giocato a calcio, cosa facevano da ragazzi nella loro attività? Andavano a fare l'allenamento e poi dopo andavano a mangiare la pizza. Noi abbiamo riattivato questa cosa, gente che di nuovo che era seduta sul divano a 50-60 anni adesso pratica sport e dopo nel contesto aggregante del terzo tempo va a mangiare la pizza. Abbiamo riattivato veramente nello spirito delle persone la voglia di riprendere a giocare lo sport che tutti abbiamo praticato. In un altro modo, con altre regole, ma comunque ha un suo contesto di divertimento. Bene, e se qualcuno fosse interessato, come speriamo tanti, a intraprendere questa bellissima attività, questa bellissima disciplina, come deve fare? Allora, contattarci. Intanto può andare a vedersi la nostra storia, quello che ho raccontato ovviamente è concentrato, ma ci sono tutti filmati degli eventi che noi abbiamo fatto sul sito www.calciocamminatounvs.com. Eventualmente per chi volesse informazioni ci contatti al numero di telefono che troverà sul sito 334 286 7733. Quindi andando sul sito intanto si cominciano a prendere informazioni. E poi vedremo contattandoci di organizzare un'esibizione, un evento, una prova, in qualche modo per coinvolgere sul campo tutte le persone che ne avranno la volontà. E ovviamente noi di Legnano Web TV siamo sempre disponibili a venire a immortalare i vostri eventi. Siete benvenuti. Bene, grazie anche a Vito GB. Grazie a voi. E con Legnano Web TV appuntamento alla prossima.